Direnzo e Zenuni sono ufficiali e oggi lo diventeranno anche Giacomo Zecca e Roberto Ragneri. Settimana convulsa dunque a Teramo con la società biancorossa che deve ricostruire un organico che al primo luglio contava solamente di pochi giocatori. L'attaccante e il centrocampista hanno firmato il loro contratto annuale assistiti dal procuratore Gianluca Libertazzi, lo stesso di Gianluca Lapadula. E allora chissà che Direnzo non possa seguire, almeno in parte, le orme del più illustre predecessore. Per quanto riguarda Federico Zenuni invece va a rinforzare la zona mediana nel campo in attesa di novità, ammesso che ce ne saranno sul fronte Amadio. Oggi, come detto, il diavolo stringerà per Giacomo Zecca, esterno offensivo cresciuto nelle giovanili di Parma e Piacenza e che proprio a Piacenza ha concluso la stagione precedente con 17 presenze e una sola rete per un totale di 578 minuti. Anche per lui dunque la chance Teramo sarebbe una possibilità di riscatto immediato. Un reparto, quello d'attacco, che dopo le conferme di Fratangelo e Bacio Terracino e l'innesto di Piccione e di Renzo con l'arrivo di Zecca sarà totalmente rivoluzionato. L'auspicio di Zichella è quello che possa dare maggiori risultati di quello che lo scorso anno ebbe troppi zero nella casella dei gol realizzati. L'altro innesto sarà quello di Roberto Ragneri, 21 anni, centrocampista centrale, ma con la possibilità di spostarsi di qualche metro per interpretare anche il ruolo di mezzala sinistra. Tornato all'Atalanta dopo 22 presenze con i piemontesi nel girone A di Serie C. Ma soprattutto, e si torna al discorso di Amadio, un giocatore che interpreta proprio il ruolo del romano. Lo farà da alternativa? Sarà la società a valutare il da farsi quanto prima. Così come ci sarà da decidere cosa fare sul fronte portieri? Al momento in Rosa c'è il solo Lewandowski rientrato dal prestito a Monopoli in uno scambio con Bifuco a gennaio che non ha portato grossi risultati. Il polacco che nell'era asta stava guadagnandosi il posto da titolare con l'arrivo di Palladini fu mandato subito in Puglia per prendere un estremo difensore esperto. Ora va deciso di nuovo chi affiancargli. Un altro giovane o di nuovo un profilo anagraficamente diverso? Con rischio però di fare lo stesso buco dell'acqua dell'anno passato?